Diokovic o Diokovic purtroppo verrà espulso dall'Australia la decisione arrivata di recente il tenista serbo perde l'appello contro la decisione di Oak, ministro dell'immigrazione dovrà lasciare l'Australia, il tribunal ha rispinto il ricorso da parte dei tre giudici Diokovic non potrà partecipare agli Australian Open che si aprono in quest'ora di tempo il campione serbo sarebbe stato condannato anche a pagare le relative spese processuali Diokovic non è vaccinato, ha perso la sua battaglia per evitare di essere espulso dall'Australia dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per motivi di salute pubblica i giudici vanno quindi a respingere in maniera unanime l'appello di Diokovic a rimanere nel paese in questione per difendere il titolo dell'Australia Open che si aprono in questi ore di tempo ringrazio per l'ascolto il video termina qua forza Diokovic, forza e coraggio che dopo aprile viene maggio ciao da Leandro, narratore italiano